Io penso che CGL e Will stiano sbagliando, stiano sbagliando profondamente perché questa portare i lavoratori in piazza contro una manovra che distribuisce invece che togliere, che dà più soldi in particolare ai lavoratori più fragili, alle parti più deboli del paese sia profondamente sbagliato. Poi l'opzione del rilanciare sempre, ci vuole qualcosa di più, è legittima, ma portare i lavoratori in piazza per questo non mi sembra assolutamente giusto. Del resto la CISL assume una posizione completamente diversa, fa le sue critiche, le sue sottolineature, ma è consapevole che è stato fatto il miglior sforzo possibile, sia sulla manovra fiscale, sia sull'assegno unico che, ricordiamolo, con un voto unanime del Parlamento dal prossimo anno, da 6 miliardi in più alle famiglie, in particolare ai redditi più bassi, ai lavoratori autonomi che non hanno mai ricevuto niente. È una manovra espansiva questa. Non capisco come si possa proclamare una sciopero generale.